è tutto pronto questo torneo over 30 inizia il match al resto del mondo life is soccer rega si fa vedere forfito bella la palla in verticale sorrentino punta l'avversario scarica dietro restuccio centrale la botta bravo guarino calcio di rigore per il resto del mondo alla battuta cafasso rincorsa piuttosto lunga fuori dall'area di rigore ma col destro spiazza il portiere fa 1-0 il resto del mondo sblocca il match c'è la possibilità per salire rega apri sulla sinistra porfito doppio passo va col destro cerca il compagno dentro carrella bravissimo carrella la rimessa pavia di testa la sponda per esposito che calcia è la parata del portiere pavia entra in aria pavia la mette dentro e spazza via la difesa palla ancora giocabile rinvio di guarino l'ennesimo rinvio lunghissimo capasso mette a terra sombrero e danni l'avversario e calcia palla sul fondo di destra da terra cafasso poi pavia riesce in qualche modo a servire per venanza cafasso in tekel termina così vince 1-0 il resto del mondo grazie 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 grazie